Si è tenuta oggi in prefettura la conferenza permanente sulla tossicodipendenza che sta diventando un fenomeno preoccupante nella provincia di Teramo, come dimostrano i dati della polizia che nel 2008 ha sequestrato 80 kg di sostanze stupefacenti ben 4 volte più rispetto all'anno precedente. In questa conferenza sulla tossicodipendenza che è la quarta conferenza provinciale proprio diamo il segno di una continuità di attenzione a questo problema e nonostante questo il problema si aggrava di anno in anno, lo disumiamo anche dal quantitativo di droga che è stato sequestrato lo scorso anno, noi siamo arrivati quasi a 80 kg di droga, a febbraio addirittura in un colpo solo la squadra mobile ne ha sequestrati 14 kg e insomma siamo ormai a livelli di consumo di massa. Un fenomeno quello della tossicodipendenza quindi che colpisce ogni fascia sociale e ragazzi sempre più giovani ma anche cittadini di ogni età. Sono i giovani che si drogano ma sono anche le persone di una certa età, notiamo anche che molte persone di bassa scolarità che svolgono lavori umili sono anche quelli colpiti da questo flaggello. L'aumento dei controlli non deve essere il solo mezzo di contrasto secondo il prefetto di Teramo, nella prevenzione e nel recupero dei tossicodipendenti la società deve essere parte attiva. Ciascuno deve fare la sua parte, i controlli ci sono e gli effetti li abbiamo visti, ne abbiamo parlato ma deve essere l'intera società, la scuola, la cultura, i giornali.